Un pochino di sedazione in modo tale che la paziente non si accorge neanche di essere mai stata operata. Assolutamente falso! La chirurgia estetica del viso e la blefaroplastica si esegue soprattutto a Los Angeles e a Rio de Janeiro, caldo 385 giorni l'anno. Non c'è nessun problema, si può operare quando vogliamo. La blefaroplastica trans-congiuntivale è secondo me la tecnica più efficace e sicura che non altera la forma dell'occhio e ottiene risultati più efficaci. Zero! I risultati sono superiori ai 10 anni. Zero! Fatta per via trans-congiuntivale, le cicatrici sono nascoste e se dobbiamo andare per via esterna le nascondiamo sotto le ciglia. Non si vede zero! È indicata per migliorare i difetti di volume della palpera, borse e occhiaia e l'alassità della pelle. Perché le palpebre inferiori sono la parte più complicata da un punto di vista anatomico e la parte più importante nell'ingiovanimento non solo degli occhi ma del centro del volto. Grazie! 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 Grazie!